È vero che c'è un carcere, quello abbandonato, completamente in disuso ed è oggetto di ristrutturazione che però attualmente sono fermi i lavori ma riprenderanno anche abbastanza presto. Quindi è vero che quella zona è in condizioni disastrata, ma non è una zona abitata, è una zona isolata e separata invece dall'attuale struttura che sta funzionando e che è in condizioni francamente abbastanza buone. Anzi direi che in confronto alle altre realtà è sicuramente ottima. Quindi è stata, come dire, dimenticata questa parte positiva e semplicemente è venuto fuori l'errore giornalistico dal mio punto di vista di una realtà che ovviamente è un cantiere, scusatemi ma io mica ci tengo la gente in un cantiere abbandonato. È un vero problema quello di riprendere i lavori al più presto e questa è una realtà che deve essere superata e quindi siamo d'accordo sulla necessità di rimetterci mano subito. Purtroppo è stato fatto l'errore di non considerare che la parte attiva è in condizioni oneste, pulite, attive in tutti i sensi e quindi anche sicuramente accettabile. Se poi lo confrontiamo con altre realtà nazionali, francamente dovremmo dire che, come ho detto prima, è ottima. Se mai c'è stato un po' di ritardo con il fatto che l'azienda che si doveva occupare del restauro era fallita? Sicuramente ci sono stati problemi amministrativi che non conosco perché se ne è occupata direttamente l'amministrazione centrale. L'azienda, la ditta, l'impresa che aveva giudicato i lavori, purtroppo a un certo punto ha abbandonato questi lavori e sappiamo che ha avuto un fallimento. Quindi questo ha lasciato purtroppo le condizioni in cui si trova attualmente, ha lasciato questa struttura, la grossa struttura su tre piani, che deve essere recuperata al più presto. Ma ripeto, è separata dalla realtà in cui si vive, si lavora e con l'impegno di tutti, francamente la teniamo anche in condizioni accettabili.